Siamo con la mamma di Marco e Nadia e ti va di raccontarci qualcosa riguardo anche della giornata oggi si festeggia il compleanno di Marco Sì, oggi Marco avrebbe fatto 19 anni e si è con noi Sono molto emozionata perché comunque è una cosa molto bella questo ci fa capire l'amore che ha lasciato in tutti noi con questa cosa ricordo che ci sarà sempre vivo dentro i nostri cuori avuto degli amici fantastici, ha degli amici fantastici che per loro è il primo fratello ringrazio tutti per la bellissima giornata e soprattutto ringrazio loro loro, Angelica, Fulvio, le persone che veramente hanno contribuito a rendere bellissima questa giornata e tutti coloro mi sono venuti una parte proprio dai ragazzi che con l'amore hanno dato l'idea Marco, tanti auguri Siamo con Fulvio, il rappresentante più grande del gruppo e ti va di raccontarci come è nata la storia di questa pensilina, di allestirla in memoria di Marco? certo, allora è nata dai ragazzi che qui si ritrovano sempre e si ritrovano adesso e si ritrovavano prima con Marco erano sempre qui, sono sempre stati qui erano un po' in cattive condizioni e quindi abbiamo pensato, loro e noi abbiamo pensato di rimetterla un po' in sesto grazie anche a Cunone, il sindaco che ci ha aiutato moltissimo sono stati molto veloci e l'hanno rimessa a posto e oggi, siccome oggi è il compleanno di Marco abbiamo pensato di fare la inaugurazione oggi quindi ragazzi, mi ricordo su questo grazie brava, hai capito tutto grazie 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 grazie